Benvenuti alla partita di oggi valevole per la coppa, qui è Fabio Charesa che vi parla insieme a Beppe Bergomi. Vi invitiamo a rimanere in nostra compagnia. Piove, speriamo che il terreno di gioco regga fino alla fine. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Calcio d'inizio, si parte. Serve il compagno. Attenzione, si fa parare il tiro. Cosa si è mangiato Fabio? Fa su il pallone. Un compagno si libera e detta il passaggio. Ottimo, bella la sua penetrazione. Ha perso palla dopo essersi involato verso la porta. Palla fuori, ha fatto la cosa giusta, non ci ha pensato su due volte. C'è il cross. Attenzione, la palla è lì. Cristian Sen. Nordstrand. Ottima occasione. Possibilità di ripartenza veloce. Occasionissima. Si spinge in avanti. Passaggio a buon fine. Ecco che tenta il tiro. avanza a palla al piede. Appoggia al compagno. Cerca la rete. Ha calciato a lato. Peccato, ha sprecato un ottimo servizio del compagno. E si chiude qui il primo tempo 0-0 alla fine dei primi 45 minuti. E anche questo secondo tempo inizia sotto la pioggia. Mila. Passa la palla. Ha spazio. Gol, palla in rete. Ha messo dentro con un tiro al volo formidabile Beppe. Si, il giocatore ha trovato il tempo giusto per il tiro e ha chiuso molto bene. Passaggio riuscito. Ecco il tiro. Riuscire a segnargli un gol oggi sarà un'impresa. Il rinvio termina nuovamente tra i piedi degli avversari. Palla che arriva sulla corsia. Attenzione. Salta la marca 2. E non c'entra lo specchio della porta. Si avvicina all'aria. C'è il cross. La colpisce di testa. Di testa il pallone. E l'arbitro manda tutti sotto la doccia.